Il viaggio di Franco Russell nel mondo della recitazione è iniziato sullo sfondo dell'Italia del secondo dopoguerra, un'epoca di rinascita culturale e innovazione cinematografica. Nato a Napoli l'8 febbraio 1925, Russell è cresciuto circondato dalla vibrante energia del cinema italiano, che avrebbe infine plasmato il suo destino. All'inizio degli anni 50, Russell fece la sua incursione nella recitazione, iniziando con piccoli ruoli in film e programmi televisivi italiani. Il suo talento e la sua dedizione hanno presto catturato l'attenzione dei direttori del casting, portandolo a ruoli sempre più importanti. Tuttavia, fu solo negli anni e 60 che la carriera di Russell decollò davvero, spinta dalle sue straordinarie interpretazioni nel fiorente genere degli spaghetti western. Il regista Sergio Leone riconobbe il potenziale di Russell e lo scelse come antagonista in due dei western più iconici di tutti i tempi, per un pugno di dollari, 1964, e per qualche dollaro in più, 1965, entrambi interpretati da Clint Eastwood. Il ritratto di Russell dei cattivi astuti e spietati ha aggiunto profondità e complessità a questi film, elevandoli allo status di leggenda e guadagnando gli ampi consensi. Ma il talento di Russell non si limitava al solo genere western. Ha dimostrato una notevole versatilità come attore, passando senza problemi da un ruolo all'altro in film polizieschi, commedie ed epici storici. Sia che interpretasse una mente criminale suave e sofisticata o un robusto cowboy dal cuore d'oro, Russell ha portato autenticità e profondità ad ogni personaggio che ha interpretato. Oltre al suo lavoro cinematografico, Russell ha anche dato un contributo significativo alla televisione italiana, apparendo in numerose serie e film per la TV. La sua presenza sul piccolo schermo ha ulteriormente consolidato il suo status di nome familiare in Italia, conquistandolo il pubblico di tutte le età. Dopo il successo e il plauso, Russell è rimasto con i piedi per terra ed edito alla sua arte. Ha affrontato ogni ruolo con meticolosa attenzione ai dettagli, immergendosi completamente nel personaggio e nella storia. La sua professionalità e passione per la recitazione erano evidenti in ogni performance, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione dei suoi colleghi. Il tragico racconto della vita di Franco Russell, interrotta bruscamente dalle devastazioni del cancro al pancreas il 30 gennaio 1985, alla tenera età di 59 anni, risuona profondamente negli annali del cinema italiano. La scomparsa di Russell non è stata semplicemente una perdita personale, fu un evento sismico che ebbe ripercussioni in tutto il settore, lasciando dietro di sé un abisso insostituibile. Nato con un talento prodigioso e un'innata capacità di abitare l'animo dei suoi personaggi, Franco Russell si è affermato come un luminare nel panorama cinematografico italiano. Il suo viaggio inizia durante la rinascita del cinema italiano del dopoguerra, un periodo segnato dal fervore artistico e dall'innovazione creativa. Fin dall'inizio, Russell ha mostrato un raro dono per la narrazione, immergendosi senza sforzo nella miriade di emozioni ed esperienze dei suoi personaggi. Nel corso della sua illustre carriera, Russell ha attraversato lo spettro cinematografico con facilità, passando senza soluzione di continuità tra generi e narrazioni. Dalle sue prime incursioni nel regno del dramma e della commedia alle sue rappresentazioni iconiche negli spaghetti western e nei film polizieschi, la versatilità di Russell non conosceva limiti. Con ogni ruolo, ha dato vita alla tela di celluloide, conferendo ai suoi personaggi profondità, sfumature e autenticità. Tuttavia, non è stato solo il talento senza pari di Russell a renderlo caro al pubblico di tutto il mondo, sono state la sua umanità, la sua umiltà e il suo incrollabile impegno nel suo mestiere a distinguerlo come un vero luminare. Dietro la facciata del grande schermo, Russell era un faro di gentilezza e compassione, toccando la vita di tutti coloro che avevano il privilegio di incrociarlo. Mentre calava il sipario sulla vita di Franco Russell, il mondo piangeva la perdita di un titano nel pantheon del cinema italiano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto indelebile, un'assenza palpabile che non potrà mai essere colmata. Eppure, nonostante il dolore e il lamento, l'eredità di Russell sopravvive, a testimonianza del potere duraturo della sua abilità artistica e del profondo impatto che ha avuto sul mondo del cinema. Sebbene Franco Russell possa aver lasciato questo mondo prematuramente, la sua memoria continua a vivere nei cuori e nelle menti dei cinefili di tutto il mondo. Le sue performance continuano ad affascinare e ispirare, fungendo da toccante promemoria della natura transitoria della vita e dell'eredità duratura di coloro che lasciano un segno indelebile nel mondo. Forse Franco Russell ci ha lasciato troppo presto, ma il suo spirito resta immortale, custodito per sempre negli annali della storia del cinema.